...e' una pizzo di tronco ...e' voluta vedere una pizzo di tronco ...e' me lo lascio ...e' ...e' tutto questo non è il cane con pizzo di tronco ...basta... allora... ...e' voluta fuori la storia che mi hanno fatto che... ...e' riuscita a prendere... ...si si si scosso, insomma che ho intenzione ...e' paura che si butta sotto la pizzo ...e' non la mangia ...e' non è il caso ...e' lei ha un cartello di panne... ...dai brava... ...fai la nanna ...fai la nanna ...e' ...fai la nanna ...fai la nanna